cari amici vi ringraziamo per averci prestato anche oggi la vostra gentile attenzione e come sempre vi auguriamo buon divertimento al cinema i film sono tutti belli almeno quelli che vi abbiamo presentato li abbiamo visti e li abbiamo apprezzati e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica cinematografica non mancate arrivederci a